Grazie, la sorpresa è finita e sono felicissima che ci sia stata anche se è breve e vi ripetete di nuovo, compa alla batteria, date al basso io sono Regretta Vicario e vi faccio l'ultimo pezzo e dovete cantarlo nel finale perché io non avrò più neanche una molecola di cose nel polpone, ok? Un momento di raccoglimento Non si scrive in una canzone Tanto che serve basta fare No, no, no Batti il dolice sul capellone La sola riesco a finire solo No, no, no Guarda lo spettico che se ne rone C'è chi piace il coltanto No, 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 no Mi piace un tipo ma fa la cosa Ora faccio il tipo Quei tatuaggi sono un ruolo L'ho fatto tutti in Albania Ma in New York va proprio piano Che c'è un ruolo Prenda un po' del cannello Che c'è un ruolo Che è una mincella Che c'è un ruolo Perché fatica mamma mia Non ci vuole ancora Più dell'attenzione Che ho fatto ma non vado mai E tutti vengono fuori E tutti vengono le tue Tutti punti non riuscirò con me Allora faccio le procents con me Orat subtle Che c'è un ruolo Che c'è un ruolo Che è una pune Che c'è un ruolo Che cerchando la La magazine è speranza Il padre chiuso nella stanza E' tutta il solia fuori Il padre chiuso nella stanza e tutti vogliono i miei soldi a me, oh, siccome ti morisci e ottimo al tatto di un po' più strada ti ha preso il muro come un cappio c'è l'ambulanza già sull'appio la madre ha messo l'esperanza va di chiusa nella stanza e tutti vogliono andare lì a me, a me, a me a me, a me, a me a me, a me, a me, a me, a me a me, a me